Allora, benvenuti finalmente a un nuovo video di Scrivo Facile. Io sono Eugene Pitch, già lo sapete, fondatore di Scrivo Facile.com e scrittore 2.0. Allora, ci ho messo un sacco di tempo effettivamente per pubblicare finalmente un nuovo video. La vita insomma passa, ci sono tante cose che succedono. Nel mio caso mi sono sposato per la seconda volta, facciamo gossip. E niente, adesso sono arrivato, ho avuto un'altra bella notizia ultimamente, che è proprio un cofanetto che ho pubblicato recentemente. E questo cofanetto mi ha dato un sacco di soddisfazione, devo dire. E tuttora mi sta dando grosse soddisfazioni. Al momento della registrazione di questo video sono alla posizione 34 di tutto il Kindle Store italiano. E sono best seller in ben due classifiche. Quindi sia quella delle antologie, perché sono un cofanetto, è un'antologia. E sia quella per azione e avventura, ok? Quindi insomma mi sta dando veramente grandi soddisfazioni. E devo dire che questo lancio mi ha fatto capire molte cose. Una cosa che mi ha fatto capire senz'altro è che molti autori si focalizzano troppo sulle recensioni, danno troppa importanza alle recensioni. Questo libro è arrivato in alto, nella top 40 di Amazon, con solo 3 recensioni. Quindi tutti quelli che dicono, no, deve avere almeno 10 recensioni, 20, 30, no, anche 50, se no non va da nessuna parte. Alla fine contano le vendite più delle recensioni. E' inutile stare lì a cercare, come degli scienziati, di fare i furbi, di addomesticare, no, gli algoritmi di Amazon. Certo bisogna capire come funzionano e bisogna sfruttarli al meglio. Ma non dobbiamo ossessionarci troppo con certi elementi che alla fine, infine, non hanno tutta quella grande importanza, no? Quindi sicuramente le recensioni hanno un grosso valore, perché mi sono accorto di fatti che nei primi due giorni in cui non avevo recensioni, il titolo faceva fatica ad alzarsi, no? Però poi, quando è arrivata la prima recensione, ho notato che c'è stato uno sbalzo in alto. E quando sono arrivate le altre due, ancora di più. E quindi, non solo i lettori su Amazon hanno una percezione diversa del prodotto che andranno ad acquistare, ma, inoltre, anche gli algoritmi danno un peso favorevole, no, alle recensioni. Soprattutto se sono positive. Se è un libro che ha recensioni a una stella, non andrà molto lontano, voglio dire. Intanto bevo un'acqua un attimo. L'acqua... bevo un'acqua un attimo. E quindi, niente, questa è una cosa molto importante della quale mi sono accorto. Perché anche io mi stavo preoccupando e dicevo, oddio, ho bisogno di avere più recensioni in breve tempo, eccetera. Perché, comunque sia, un lancio, in generale, dura tra i 5 e i 7 giorni. Meno di 5 giorni è inutile. Potete spingere quanto vi pare, ma... Meno di 5 giorni gli algoritmi di Amazon non vi spingeranno. Non riusciranno a captare che il vostro libro vale la pena di... di... dargli visibilità. Quindi deve essere almeno 5 giorni. Nel mio caso sono stati 6 giorni. Perché, comunque, ho scritto un libro che è in una nicchia popolare. Quindi, azione e avventura. Quindi combattevo contro Wilbur Smith, poi chi altro c'era? C'era il cofanetto... No, c'era il libro di Harry Potter, poi c'era James Rollins e altri. No, e quindi sono tutti nomi grossi. È molto difficile farci spazio lì. Oltre a questo, nella sezione delle antologie, dovevo sgomitare per riuscire ad arrivare alla prima posizione, dove stava... troneggiava un cofanetto romance. E quindi con un sacco di recensioni, più di 200 mi pare, no? E quindi è logico che sono... sono ossi duri. Non stai giocando la partita in una nicchia, in una classifica di secondo ordine, dove, insomma, bastano poche vendite e già arrivi in alto ai primi posti, no? E quindi, insomma... È stata dura, però sono contento di esserci riuscito. Oltre a questo, insomma, ho avuto diverse problematiche. E ho... con tutto che sono... insomma, sono un professionista, bene o male, è il mio lavoro aiutare anche gli altri scrittori, no? A lanciare i propri libri, a curarli, eccetera, eccetera, promuoverli. Comunque sia... ho riscontrato anch'io dei problemi tecnici che non avrei mai immaginato. Mi sono capitate, per esempio, le campagne di Amazon mi si sono stoppate due volte, ben due volte, durante il lancio. Mi sono bloccate... sono state bloccate tutte le campagne di Facebook durante il lancio. Però poi, alla fine, sono riuscito a trovare la chiave di svolta e a riavviarle tutte quante. Di fatti, a proposito, ho utilizzato per questo lancio tre elementi fondamentali. Ho cercato di focalizzarmi su poche cose che però so che possono funzionare. Provare nuove cose, esperimenti, eccetera, no. Non volevo spendere tempo né soldi. Anche perché è stato un lancio, non dico improvvisato, ma... cioè, l'ho pianificato nel giro di uno, un giorno, forse, massimo due. E ho dovuto correggere anche il tiro, essere flessibile durante il lancio, per cambiare le cose, adattare. Perché bisogna sempre essere flessibili, bisogna sempre adattarsi, ci saranno sempre dei problemi, non esistono i lanci perfetti al 100%, c'è sempre qualcosa che non va. A volte ti si bloccano gli Amazon Ads, a volte ti si bloccano i Facebook Ads, a volte ti chiudono il profilo, a volte ti dimentichi di inserire un link sui social, a volte ti dimentichi di fare il post, a volte ti dimentichi di correggere il prezzo. Cioè, qualunque cosa potrebbe succedere, bisogna stare pronti e immediatamente agire, no? Allora, dicevo, mi sono concentrato su solamente tre elementi. Quindi uno sono stati gli Amazon Ads. Gli Amazon Ads mi sono serviti per garantire quella base per le vendite, che fosse regolare, più o meno regolare, durante l'intero lancio. E quindi ho utilizzato per quello gli Amazon Ads. Perché gli Amazon Ads sono molto potenti, sono un po' meno flessibili, un po' difficili per certe cose, sono un po' più difficili anche da scalare, però ti garantiscono delle vendite abbastanza facilmente se hai fatto tutti i compiti a casa, e quindi se la copertina funziona, se la sinossi sai che funziona, se il prezzo è buono, non è troppo alto, e quindi sì. Seconda cosa, quindi avevo questa base solida, mi serviva anche una base per, diciamo, andare a avere più flessibilità, e quindi aumentare il tiro, spingere di più il libro quando mi serviva. Per quello ho utilizzato i Facebook Ads, perché hanno più flessibilità, perché consumano totalmente il budget che gli dai. In realtà anche gli Amazon Ads consumano il budget, però solo in certi casi, ok? E' molto più difficile spendere l'intero budget degli Amazon Ads. Sono difficili da scalare, ma si possono scalare. I Facebook Ads sono un po' più facili in tal senso. Quindi avevo già una base buona all'interno del circuito di Amazon, e questo già era ben visto anche dagli algoritmi di Amazon, perché sto utilizzando la loro piattaforma, eccetera, promuovendo un libro nuovo, eccetera. Oltre a questo, utilizzando i Facebook Ads, do segnale agli algoritmi di Amazon che anche dall'esterno posso portare nuova gente, nuovi utenti, nuovi clienti, al loro store. E quindi anche quello dà sicuramente, non so fino a che punto, però sicuramente dà un segnale positivo agli algoritmi di Amazon, ok? Infine, il terzo elemento che ho utilizzato è stata la mia newsletter. Quindi c'è la mailing list con la newsletter, l'ho inviata agli iscritti, appunto, per farli presente, insomma, che era uscito il mio nuovo libro. Mi è stata molto utile, soprattutto per i preordini, devo dire, perché ho utilizzato in questo caso il preordine. E ho ottenuto diversi preordini, quindi sono molto soddisfatto, e anche quello ha dato un boost iniziale, una spinta iniziale. Detto ciò, comunque sia, bisogna tener conto che Amazon dà più visibilità ai titoli nuovi, no? E quindi bisogna concentrarsi, appena esce, durante i primi 30 giorni, a spingere il più possibile questo libro, a farlo andare il più in alto possibile, con un prezzo scontato, ovviamente. E poi, piano piano, quando, insomma, le cose vanno meglio, e noi possiamo, insomma, rilassarci un po', possiamo aumentare effettivamente anche il prezzo, no? Quindi abbiamo un'offerta chiara, a tempo limitato, tipo, per esempio, 5 giorni, e ci può servire sicuramente per spingere molto sulle vendite, no? E niente, quindi il prezzo che ho deciso, ho scelto io, era un prezzo piuttosto basso, però comunque sia, non avevo, non avevo altra scelta per questo tipo di lancio, perché avevo nella mia mailing list, comunque, gente che mi segue, ma da tanto tempo, e li promuovevo un prodotto che già conoscono, che già, forse, hanno letto, hanno già acquistato, capito? Quindi non potevo lanciare a 2,99€, però comunque sia, è andata bene, sono soddisfattissimo, però ecco, magari per il prossimo libro, che voglio scrivere, ecco, per quello, potrei provare a lanciarlo a 2,99€, ok? Anche se, però, so che già sarà molto più difficile, può essere che probabilmente devo spendere molto di più, anche per gli Amazon Ads e i Facebook Ads. Comunque sia, per farla breve, che non voglio fare un video troppo lungo, l'importante è capire che è possibile, è ancora possibile scalare le classifiche di Amazon senza acquistare recensioni false e senza essere sotto contratto con una casa editrice. Si può fare, è difficile, ma si può fare. Se uno sa esattamente come farlo e se uno, ovviamente, ha il prodotto giusto, cioè, con tutti i crismi, no? E quindi, niente, se vi interessa, appunto, capire meglio come funziona il lancio, proprio a livello tecnico, con tutti gli elementi che sono in gioco, proprio in dettaglio, già a partire, per esempio, dalla copertina, qual è un tipo di copertina che funziona, qual è una sinossi che funziona, magari creare un book trailer, se può servire, come utilizzare anche i Facebook Ads, gli Amazon Ads insieme, no? Proprio che tipo anche di strategie tattiche utilizzare in fase di lancio, cliccate sul link in descrizione, perché ho creato, proprio adesso, ne approfittate, ho ancora tutto a caldo, ho creato un corso completo per lanciare un libro, ok? Quindi mi sono basato, mostrerò tutti i dati, eccetera, dati di vendita, guadagni, click, tutto quanto, sta tutto là, con tutte considerazioni di livello avanzato, adatto anche, ovviamente, ai principianti, perché va da là alla Z per i lanci, ed è adatto non solo ai cofanetti, ma ovviamente anche ai libri normali, agli stand alone, no? E niente, quindi, per farla breve, se vi interessa, date un'occhiata al link qui sotto, il corso è in offerta speciale per una settimana, dopodiché, insomma, il prezzo si alzerà, se vi va, acquistatelo, se no, intanto, penso che già questo video vi abbia dato un po' una certa idea di come funziona un lancio di un libro, e vi abbia dato soprattutto anche la speranza di riuscire a fare un lancio, spero, vi auguro, ben migliore del mio, quindi arrivare anche a posizioni più alte, magari nella top 20, o nella top 10, no, del, di Amazon. Ok, quindi niente, vi auguro tutto il meglio, e dimenticavo poi, se vi interessa, c'era anche l'ultimo libro che avevo scritto, che era quello, Self Publishing e parole che vendono, è un libro che ho scritto proprio per pensare alla psicologia, no, del cliente, alla psicologia del lettore, e come utilizzare le parole per vendere al meglio, no, il nostro prodotto, il nostro libro. Anche quello lo trovate in descrizione, insomma, date un'occhiata qua sotto, ci sentiamo alla prossima, io adesso, insomma, è ora, io vado a mangiare adesso, insomma, è ora di mangiare. Pranzo, ciao a tutti, ciao, ciao! Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.